Chiamo Carlo con l'ambulanza. L'incidente è venuto proprio in questa discesa che collega Piazza Duomo a via Montenegro. La proiezione del Corpus Domini era appena iniziata. Ovviamente c'è molto sconcerto, il vescovo si è rialzato. Fortunatamente quello lì, vedete, è dolorante ma sembra non aver riportato problemi particolarmente seri. Fortunatamente perché la caduta è stata davvero terribile. Ecco l'ambulanza che riparto. La processione prosegue.